Il piacere di aprire la nostra Assemblea, l'Assemblea della nostra Federazione, quindi il momento più alto di appartenenza a un sistema, a una visione, a dei valori e quindi condividere questi momenti con chi tutto l'anno vive le gioie e i dolori che caratterizzano il nostro mettere è un momento davvero di orgoglio. È chiaro che i nostri luoghi hanno sempre rappresentato la casa fuori casa degli italiani, nei nostri luoghi ci si incontra, ci si innamora, si condivide con le persone care i momenti belli della vita e quindi il nostro livello di pubblico esercizio in tutte le sue varianti è in qualche modo lo stile italiano a tavola che ha sempre identificato il nostro paese nel mondo. Quindi penso che questi siano momenti proprio di orgoglio, di appartenenza, anche perché il nostro lavoro consiste nel far star bene le persone e quando questo ci riesce siamo felici. Ecco perché è un momento diciamo di orgoglio, di gratifica, di prospettiva e quindi adesso al di là del benvenuto vengo a presentare il tavolo, e poi saranno noi i veri. Alla mia sinistra c'è l'assessore del sviluppo economico della regione Lazio, Manzella che ci poi farà i saluti, il presidente Stolpani che non c'è bisogno di spendere alcune parole e se non ringraziare il signore a fare il suo prezzo buon anno. Applausi E quindi uno ormai dei nostri, io mi proponevo prima di dargli la testa onoraria al suo manico Reghetti perché ormai oltre ad aver curato la moda che sicuramente avete visto, ma insomma è uno che nel suo modo di porsi di vivere insomma pone sempre al centro insomma il nostro mondo, la bellezza, il teatro della vita che vuole intorno ai nostri luoghi. E quindi un ringraziamento per quello che farà, per l'affetto e l'attenzione che è sempre dimostrato l'ingraziamento per aver curato la nostra mostra che racconta un po' in un modo diverso l'Italia attraverso l'acqua. Quindi il cibo e cultura. Davide sono andato al nostro ragazzo, il presidente Paolo per il saluto istituzionale. Grazie, grazie, grazie dell'ospitalità, grazie, insomma io più di tutto vi porto un saluto al presidente Zingaretti che per alcuni funzionali non è più di essere presente. Io comunque sono l'assessore con la delega, diciamo così, al commercio, quindi sono l'assessore competente, come si dice in genere. Grazie a tutti voi perché poi alla fine è un'assemblea nazionale, quindi persone che rappresentano tutto il paese. Mi fa piacere vedere il presidente Stoppani che ho conosciuto tanti anni fa, ma anche resti le mie, le sue erano sempre qui, quindi questo dono del Signore effettivamente ha una sua durata. Questa servea, la cosa interessante per me è che arriva in un momento servestivo, nel senso che abbiamo dei provvedimenti in discussione a livello nazionale, che toccano molto la vostra attività. A livello regionale noi stiamo discutendo un testo sul commercio che prevede anche la regolazione delle vostre attività, sul quale ci siamo già confrontati, ma con il quale dovremo continuare a confrontarci nei prossimi mesi. E quindi secondo me è molto utile il concorso sul merito e le indicazioni che voi avete da darci. Penso che io penso molto che il concorso sia una vicenda estremamente utile, ma ci tornerà più bene. Ma secondo me è un momento interessante anche che è un buon cambiamento culturale rispetto alle vostre attività. E lei già l'ha detto, questa bella espressione, la casa è fuori casa, le tematiche della rigenerazione locale, il turismo che tutti noi sappiamo che deve diventare una qualità superiore e quindi ha, diciamo in alcuni esercizi, il primo benvenuto in una città, un po' il biglietto da visita. Ma l'economia, non è più solo l'economia di quello che si muove nel risparmere la situazione, nel bar, ma è quello che si muove dietro, quindi tutta la filiera di prodotti che sta dietro, quello che noi vediamo come consumato nei finali. E finalmente la cultura. Non vediamo queste bellissime tecnologie del cibo, ma diciamo che io mi sono occupato un po' di politiche per la creatività, quindi vedi, non per ormai il fenomeno di ricerca, il fenomeno della cucina, un fenomeno che muove cultura, che muove economia, che muove, diciamo proprio come un territorio si presenta al mondo. Quindi mi sembra un'occasione molto, molto tempestiva, non come regione, mi sento di dire che ci stiamo su questa vicenda, se dal punto di vista, raccogliendo le idee per parlare, se dal punto di vista di quello che facciamo come guide gastronomiche, come formazione, in questo settore, come sostegno alle manifestazioni che promuovono il territorio attraverso le nuove astronomie, a prodotti locali, cioè c'è molta attenzione in questo. E poi diciamo così, se c'è un'eccellenza laziale è quella del cinema, quindi il fatto che voi dedichiate qua, parlando di cibo come cultura, parliate di cinema in una regione così come in Lazio è estremamente appropriata. Un'ultima parola sul cambiamento. Secondo me il momento di cambiamento è un momento in cui le attività delle associazioni e le attività della politica debbono conoscere un momento di passaggio. Nel senso che noi secondo me siamo un po' usciti da quella sensazione, da quella situazione, da quella concezione in cui la modernità doveva portare alla valutazione dei corpi intermedi. Ed invece si è capito che proprio perché la modernità e il cambiamento e quindi velocità, i corpi intermedi servono semplicemente a chi prende decisioni, come per il periodo della vita, a prendere delle decisioni che diciamo siano delle decisioni reali, delle decisioni necessarie, delle decisioni che affondano appunto nel vostro caso, in quella casa fuori casa dove si incontrano le diverse esigenze. Quindi io penso che ci debba essere un momento in paradosso e che quando proprio si pensava che la modernità avrebbe eliminato il bisogno di qualche imprendimento, secondo me ce n'è più bisogno. Ma secondo me, così come c'è bisogno per la modernità di una politica più veloce e più di qualità, c'è anche bisogno di un associazionismo che io come dico spesso deve essere un po' chiuso. Cioè deve mettersi nei bagni degli altri, di prendere decisioni e intervenire con delle proposte molto precise e molto motivate. Perché diciamo che solo delle proposte precise e motivate poi possono diventare in qualche modo delle realizzazioni concrete. La nostra massima attenzione. E l'ultima cosa, mi fa molto piacere vedere che nel marchio FIPE c'è la bandiera del luogo dell'Europa. Perché secondo me questa è una bella prospettiva nella quale fare la vostra attività, fare la nostra e lavorare insieme. Quindi buon lavoro veramente. Allora, buongiorno. Intanto buona comunicazione. Come sono solito dire anche nel mio programma comunicativo, ci siamo utilizzati gli occhi con queste immagini, devo dire cariche di emozioni e preziose immagini ad alto tasso calorico. Perché insomma c'è un po' di tutto, dai gelato alla pizza agli spaghetti. Le nostre eccellenze italiane nel mondo sono pensato a un mondo del genere, a unire proprio il cinema con l'altra nostra eccellenza che sono appunto il cibo, quindi la nostra prodottiera gastronomica, il gelato, il caffè, tra l'altro la nostra preparazione proprio sul caffè e i personaggi del nostro passato che sto ultimando ed è veramente particolare. Il cibo da sempre ha raccontato i mutamenti, i cambiamenti, le differenze sociali, le abitudini alimentari, di un periodo sporico, le tendenze gastronomiche, le trasformazioni dei costumi. Era importante in 32 immagini, in 50-60 in BN, raccontare un po' il nostro paese che poi ha portato la cittadina in tutto il mondo. Ricordo che queste sono immagini proprio dell'archivio dei reporters associati, archivi di Alessandro Canestrelli che tra l'altro qui in sale ringrazio anche il papà, è un grandissimo fotografo ed è questo il più grande archivio fotografico italiano tra i maggiori d'Europa con oltre 100 milioni di immagini. E poi ringrazio in sala, a volte di voi l'avranno conosciuta e l'hanno anche salutata con grande affetto, la pronuncia trice Rai Rosanna Baudetti che è stata la cittadina, la scelta Rai Rosanna, no? Erano questi personaggi che entravano in punta di piede nelle nostre case e complasse con releganza, cosa che purtroppo ha fatto inizio degli anni ormai ha perso da tempo, questo lo devo confermare da autore Rai televisivo anche Rai. E quindi mi fa molto davvero tanto piacere Rosanna della tua presenza. All'interno della cartellina che gli è stata consegnata, questa è un'informazione di servizio ma è importante per tutti noi, vi è stata data appunto tra le schede con le immagini delle opere, delle fotografie che hanno visto, ci sono anche però gli aforismi che ho selezionato, sono quindi strepitosi proprio sul cibo e poi ci fa piacere anche una vostra, un vostro ricordo legato proprio al cibo. Ecco, se ci farà davvero piacere avere questi vostri suggerimenti e questo vostro ricordo, al termine poi troverete potete consegnare direttamente le schede all'uscita. Adesso partiamo, partiamo con gli scopriamo le emozioni, un video ad alto basso emotivo ed emozionale dedicato proprio a questo anno maggio a un grande maestro, uno dei più grandi, che ha portato la cucina italiana in tutto il mondo e stiamo parlando di lui, di qualche aromarchese. Vediamo insieme. Ora nel 1977 c'è stata la sua cultura di Milano e da lì che iniziava forse la rivoluzione a un grande maestro di Milano. Ha filtrato tutto attraverso il cervello contemporaneo quello che erano stati gli insegnamenti dell'albergo, dei suoi genitori, quindi ha guardato il passato in una chiave critica e non nostalgica e l'ha portata nel futuro. La mia cucina della verità, ovvero della forma, quindi della materia. Ricordo le critiche atroce che ha ricevuto. La mia strada è quella perché ho venuto la per sé in esorabilità. C'era un po' da parafulmine e questo ci ha servito per essere un po' più libero. Ha sempre ascoltato se stesso e la sua sensibilità. è solo le condizioni che mi regge, ma se poi una volta ci si avvicina in collegia e si taglia. Così si avvolge il mondo, così si crea la storia. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e 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 a tutti. Grazie a tutti. e tutti. e a 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 tutti. a tutti. e a tutti. e a tutti. e tutti. e a 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 tutti. e tutti. e a tutti. e tutti. e tutti. e a tutti. e tutti. e a tutti. e tutti. e tutti. ti faccio. e tutti. 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 tutti. e tutti. e... e... e tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e... tutti. e... tutti. e... tutti. e... 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 tutti. e... 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 ... ... e... ... ... ... ... ... e... ... 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 dentro non c'è nulla di italiano non c'è nulla è un po' di carci padrone di queste cose perché andare in giro nel mondo non solo portare piatti ma portare le proprie esperienze di vita nel territorio dove la gente è molto importante perché la gente ha sede e ha voglia di conoscere quello che appunto erano le nostre storie di famiglia perché se pensiamo a una cosa importantissima quando i social non esistevano il nostro vero social la casa mia soprattutto nella mia famiglia era la tavola là che si condividivano si raccontavano le storie e ce ne eravamo tutti quanti insieme e là che abbiamo diventati uomini e che abbiamo affrontato il mondo interno e quindi credo che io ho iniziato a fare una rivoluzione nei carceri quando la gente mi metteva paura che voleva iracca perché stavo diventando un imprenditore serio io sono entrato nei carceri e che ho messo le tappe in mano agli ergastolani e gli ho incominciato a far saltare la terra e a renderli orgogliosi quello che faceva e dopo pochi mesi uno degli ergastolani mi ha scritto una lettera ha detto ti sarò debitore a vita perché mi ha messo un uomo libero anche se sono rinchiusi in queste nuove e questa è stata la cosa più meraviglia che si fa ma soprattutto giro il mondo perché voglio che il cibo sia condivisione non sia più aspirazione alle stelle oppure diventare qualcosa di importante il cibo per me deve essere una storia deve essere qualcosa che racconti le tue emozioni l'altro me un anno fa sono stato in Africa in Kenya recentemente ero girato per tutti gli orfanotrofi in questi bambini mannutriti soprattutto e ho insegnato a farlo con gli gnocchi cose che forse in casa nostra e questi bambini mangiano con le mani un solo piatto e condividono con gli gnocchi come qualcosa di straordinario è una cosa bellissima il cibo credo che faccia tantissime cose belle tra tre giorni partirò per l'Indonesia dove farò una cena di beneficenza per cui i bambini che sono avanti hanno avuto questa brutta esperienza del mare moto e regaleremo delle navi ospedali perché purtroppo ci sono ancora bambini nel mondo che hanno problemi anche per distenderie e per malare quindi il cibo è condivisione ma può essere anche qualcosa di promozione per vedere il mondo da un altro punto di vista la legalità ci deve essere perché oggi purtroppo chi ne paga sono sempre quei piccoli se pensiamo al pomodoro in Italia quanti produttori di pomodoro ci sono? ma quasi sempre chi è dietro al pomodoro vero non si vede mai ci sono tanti piccoli portadini che devono fare i compromessi per vendere i loro pomodori noi non li vediamo vediamo solamente il marchio noi dobbiamo iniziare a guardare dietro al pomodoro social realmente e allora sì che dobbiamo soprattutto sostenere quelle piccole aziende quelle piccole aziende che ne fanno qualcosa di importante perché ormai il pomodoro è tutto pomodoro ma esiste pomodoro il pomodoro e soprattutto da dove vengo la terra che del pomodoro ne è fatto veramente qualcosa di importante sta scombarendo tra ormai poche famiglie ancora coltivi di pomodoro perché coltivare il pomodoro per 40 centesimi per i figli non è qualcosa di importante dopo ci sono aziende che vogliono vendere a 100 volti in più quindi se vogliamo qualcosa di realmente legale dobbiamo sostenere questa gente dobbiamo fare in modo che possano avere un orgoglio di continuare su quella strada perché io credo che il cibo è l'unica cosa che è rimasta e che dovrebbero essere un grande volo avanti per l'Italia e anche i pochi però dobbiamo ritornare un po' indietro e rimettere come dicevo prima la dignità per la dignità perché la dignità può far cambiare il mondo e quindi chiedo di salire sul palco il presidente Stolpani per questa sorpresa per lei grazie 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 per dare il valore al cibo al territorio e alla legalità grazie e passiamo adesso al perché il cibo è così strettamente connesso con la spiritualità ce lo spiega il gesuita Jean-Paul Hernandez che ci parla proprio del cibo spiritualità grazie per questa ragione di ascoltarvi prima di tutto se è vero che la spiritualità dice l'intimo dell'umano e delle culture la spiritualità mette nel centro questa attività umana fondamentalmente umanizzante che è il cibarsi io mi occupo di storia delle religioni di antropologia delle religioni e vi posso dire che nei miei corsi l'alimentazione il cibo è uno degli elementi principali perché rivela una religione rivela l'immagine dell'uomo che quella cultura quella tradizione religiosa dona fate caso che per esempio nella nostra tradizione cristiana Gesù di Nazareth con quel rabbi di Nazareth che noi chiamiamo Gesù ha fatto le cose principali a Tatora le cose principali a Tatora tra l'altro i testi che abbiamo i Vangeli ci dicono che sia nato in un luogo che si chiama Bethlehem in ebraico significa la casa del pane tra l'altro i racconti della sua infanzia ci dicono che sia stato stato deposto in una mangiatoia e il testo insiste tre volte senza necessità e fu deposto in una mangiatoia e lo troverete in una mangiatoia e lo troveranno in una mangiatoia perché? perché tocca una corda profondissima nell'essere umano cioè incontrare Dio nell'attività umana e umanizzante che è il mangiare gli antropologi e i psicologi ci dicono che il mangiare è la prima grande trasgressione trasgressione di che cosa? di quel confine del nostro corpo che è la pelle perché tu introietti qualcosa che non sei tu tu attraversi un confine vietato e questa trasgressione è paragonabile soltanto a poche altre trasgressioni e come le altre trasgressioni del nostro confine che è la pelle è subito coperta di una sacralità di un tabù di un significato misterioso come quell'altra trasgressione della pelle del confine pelle che è la relazione sessuale che è il defecare sono atti che sono tabù e al tempo stesso sacri nelle grandi tradizioni dell'umanità allora non è un caso se le grandi religioni si sono interessate tantissimo al maggiore perché rivelano l'uomo e sono il momento anche della relazione mi fermo su tre punti il primo quando si mangia sto riconoscendo che non sono autosufficiente cioè mangiare significa riconoscere che ricevo la vita da fuori da me solo un dio non ha bisogno di altro mangiare significa che io ho bisogno di altro che io non sono tutto che ricevo la vita da qualcos'altro da fuori a me perciò avete fatto caso quando state mangiando da soli magari a tavola e che viene qualcuno camminando e vi guarda a mangiare e vi saluta ciao e ti guarda a mangiare ma vi sentite un po' imbarazzati eh e che cosa dite spesso voi 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 provare voi assaggiare ma lo dite perché siete generosi forse ma lo dite anche per non essere soli a mangiare cioè a mostrarvi con questo bisogno di avere qualcosa da fuori da voi che vi dà vita e allora l'altro mi può rispondere non ho grazie no come come chi dice io non ho questi bisogni così bassi come il mangiare no si presenta con un Dio e allora tu stai male e finisci subito no no ma ho già finito sai era uno spuntino e invece mangiare con un altro in tutte le culture è confessarsi a vicenda questo essere limitato questo non essere anche sufficiente in realtà gli antropologi analizzano il mangiare in comune con una confessione reciproca io ti confesso il mio bisogno più più ancestrale più vitale fin dal primo tocco delle mie labbra con il seno della mamma appena quando ero nannato il bisogno di mangiare te lo confesso ti confesso che ti confesso una cosa non sono Dio questo è un mio bisogno confessarsi a vicenda che non siamo tutto che non siamo autosungeti ma questa confessione reciproca diventa un piacere questa è la magia del mangiare insieme un piacere un'emozione cioè che cos'è e mangiare insieme è la configurazione del mio limite dell'essere limitato in una festa in un piacere è la celebrazione del mio limite perciò tutte le culture religiose hanno fatto del mangiare insieme il luogo dell'espressione del sacro più velocemente gli altri due anni se mangio come dicono gli altri apologi è che ho ucciso questo questo non ci piace ci prende a loro che dice homo metans l'uomo che uccide anche se sono vegetariano ho interrotto un ciclo vitale nel 1944 quando inizia la scuola del veganesimo e aveva questo come sogno all'origine eliminare la violenza dal mangiare ma è possibile tu comunque quando mangi è che qualche vita si è spezzato per te dunque mangiare è rendersi conto che continuamente si dà la vita per te la natura la creazione è continuamente un tono di vite che si spezzano per te vedete che siamo molto vicini a quello che il Vangelo racconta su Gesù Cristo sulla vita di Gesù Cristo il mio corpo dato per voi è un po' la sintesi se volete il simbolo di tutto quello che è già la creazione è già la natura con la sua storia come è stato detto prima con le sue emozioni è un racconto che si dona a te e terzo punto l'invenzione del cuoco cioè l'invenzione del profumo Krutlevi Strauss questo grande antropologo fa coincidere l'inizio della cultura con la domesticazione del fuoco e dunque la cucina il cucinare il titolo di questa nostra macchinata è esattamente questo cibo è cultura perché inizia la cultura cucinando questo è l'origine della cultura cioè è trasformare le cose perciò il fuoco è con un sacerdote dove e in tante compone il fuoco ha un sacerdotio è la trasformazione della natura in qualcosa che io scelgo e faccio e ricreo e trasformo per testo ma allora se io mangio ciò che è stato cucinato io mangio anche l'idea no? del fuoco la creatività del fuoco il tempo del fuoco cioè la vita del fuoco per migliaia e centinaia di migliaia di anni noi abbiamo ricevuto il cibo da chi ci vuole bene l'uomo l'uomo riceve il cibo in figlia o il cibo è stato il sacramento di questo amore la mamma c'è da mangiare che è la continuazione del suo corpo e io mangio allora che cosa? non solo quelle molecole lì quel materiale lì ma mangio la mattinata della mamma che già stamattina stava pensando cosa gli piangerà cosa gli farà del bene la narrazione il suo corpo mangio il suo corpo vedete come siamo vicini di prendete e mangiate questo è il mio corpo e quelli più bravi fra di voi che cosa siete capaci di fare quella magia straordinaria di ristabilire la relazione umana con la persona che viene a mangiare da qui è quello che tu mangi è quello che tu dai e il mangiare allora è il piacere di questa relazione è il sacramento di questa relazione è come nel piacere intimo del corpo il piacere sessuale è il piacere di far piacere allora questi sono alcuni così flash su l'importanza del mangiare del cibo nella nostra tradizione religiosa e per sintetizzarlo in una parola in realtà mangiare e accettare di essere figlio che è la cosa più difficile al mondo e dopo quello le difficoltà con il mangiare hanno a che fare con la difficoltà dell'essere figlio se ho fatto fatica a essere figlio farò fatica nel mangiare ma chi mi dà da mangiare mi può guarire e può trasfigurare può purificare può ridarmi la gioia di essere figlio questo sono alcuni grazie 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 C'è un problema anche molto bene all'intervento precedente perché appunto la Bibbia, cominciamo a mangiare, cominciamo a mangiare il frutto, oppure se pensiamo che tutta la nostra storia dipende da un piatto di lenticchia, almeno per la nostra storia occidentale, tra Esau e Giacobbe. Quindi le grandi narrazioni, il piacere delle grandi narrazioni, dico sempre, posso adesso togliere un momento di mestiere, l'amico Hernández, ma insomma leggere la Bibbia è fondamentale, come leggere i grandi poemi classici, pensiamo per esempio appunto all'Unissea, il grande banchetto, il grande banchetto dell'Unissea che dura per vent'anni, dura per una guerra, per il ritorno, per il ritorno di Ulisse, per i prossegui, insomma, quindi ci sono questi grandi momenti fondativi della nostra cultura ed è il piacere della narrazione, ecco, perché da questo punto di vista la letteratura, l'accordo tra il cibo e la letteratura non è soltanto qualche cosa che possiamo subire, cioè noi leggiamo qualche cosa che ha nello scritto, ma è proprio il piacere anche della nostra, questo è uno dei piaceri di tutti, quando riusciamo appunto, quando andiamo fuori al ristorante o anche alle bar, quando prendo un caffè, eccetera, c'è questo piacere di narrare quello che si è incontrato, quello che si è gustato e questo diciamo è fare letteratura, quindi possiamo non soltanto ascoltare, leggere, ma anche produrre, anche produrre letteratura e qui secondo me per quanto riguarda la letteratura al cibo ci sono come due grandi modalità, uno, la prima modalità è quella che noi leggiamo, leggiamo nei romanzi, nella poesia, cioè nei libri appunto, quando si parla di cibo, vediamo per esempio Manzoni, se voi ci pensate appunto nei promessi sposi, per esempio il pane, proprio tornando al pane, il pane ha un'importanza fondamentale, ha un'importanza fondamentale per esempio per padre Cristoforo, sto dicendo cose che tutti in qualche modo abbiamo incontrato e abbiamo letto, l'importante padre Cristoforo appunto che quando va a chiedere perdono ai familiari, alla persona che l'ha ucciso, riceve un pezzo di pane, per cui resta il pane, il pane della sua vita, che diventa il pane del perdono e noi ritroviamo questo pezzo di pane nel quarto capitolo dei promessi sposi e lo ritroviamo alla fine, alla fine quando padre Cristoforo fa vedere a Renzo il pane del perdono perché non accetta che giudichi i doni del perdono, perché gli dice che la sua vita, la sua vita è definita invece da un altro tipo di pane, oppure il pane della remunizione, pensate appunto alla rivolta di Milano, il forno delle luce, anche quello è il pane, perché qui c'è questa grande capacità naturalmente di Manzoni di essere legato alla vita delle persone come alla vita della società e lì appunto ora ci racconta, attraverso questo cibo, questo cibo di tutti, ecco, perché è il cibo di tutti il pane, ci racconta appunto la storia, ci racconta la storia delle persone come la storia dei popoli e delle città, pure penso ad un altro grande lombardo, a Garda, però la ricetta del risotto di Garda, che pubblicò nella rivista delle Eri, e allora qui diciamo due cose, uno sono i cibi che troviamo all'interno dei romanzi, all'interno delle poesie, all'interno appunto di genere letterale, e l'altro è invece il cibo che può diventare genere letterale, cioè il libro di ricette, la ricetta, la ricetta è un genere letterale, è un grandissimo genere letterale, certamente direi che forse è la più bella ricetta della cultura italiana del Novecento, proprio quella di Garda, quella dedicata al risotto italiano, dove se andate a leggere appunto, c'è dentro tutto, c'è dentro il piacere delle qualità di riso, di amore nano, per esempio, va proprio nel dettaglio, il piacere delle pentole, delle pentole di rano, che erano quelle che c'erano nel tempo, e poi dice, beh, oggi ci sono quelle di alluminio, del burro, il burro che deve essere quello di soresina, cioè, quindi, del burro che naturalmente rappresenta un luogo, uno dei tanti luoghi, prima appunto si è parlato dei luoghi, Parigi ha parlato dei luoghi, della nostra eredità, che prendiamo appunto dai luoghi, e Garda, in questa ricetta, che se non avete presente, vi inviterei a leggere, si trova molto comodamente, anche su internet, appunto ci racconta tante cose che lui scrive negli anni Cinquanta, e che fanno parte di una cultura che è ritornata molto prepotente anche in questi anni. Pensate a Garda, e qui voglio ricordare un altro dei grandi, grandissimi ristoratori italiani, Colombani di Maleo, perché Garda appunto scrive di questi territori, di questi risorti, appunto, nel territorio, tra quello di Franco Colombani, appunto, all'Arcante del Sole di Maleo, uno dei grandi, uno dei grandi distrati, dei grandi mestri, uno della Liga Cucine d'Italia, insieme a un altro, che voglio ricordare, Pettino Cantarelli, negli anni Cinquanta, che si uniscono poi in un modo anche diverso, in un modo anche diverso, per ognuno con la propria originalità, a Gualtiero Marchese, per ognuno con la sua originalità di interpretare il territorio, di interpretare la propria tradizione, che però diventa, in modi anche diversi, un modello, un modello più. Casanova, le mie, diciamo, sono, così, inviti alla lettura, se avete voglia di legge, se avete voglia di andare, un invito è sicuramente per Casanova, è una grande passione, con un grande amore, ovviamente, cibo ed erotismo è un elemento, diciamo, quasi inscindibile. E vi invito, appunto, a leggere, a leggere la grande, la bellissima ortografia di Casanova, scritta in francese, ma tradotto poi in italiano da Fiero Chiara, tra l'altro lato degli scrittori del nostro novecento, che ha dedicato maggiori attenzioni proprio al cibo. E qui ritroviamo, appunto, in Casanova, tantissimi episodi relativi proprio al piacere, al piacere del cibo, in particolare, naturalmente, le ostie, che per esempio, che sono uno dei grandi piaceri di Casanova, che faceva portare, faceva portare da Venezia, dalla laguna di Venezia a Milano, faceva queste cene, organizzate per 30-40 persone, facendo portare direttamente, direttamente dalla laguna, appunto, a Milano, cioè nei vari centri dove offriva, offriva queste cene. Tomasi di Lampirusa, un altro invito alla lettura del Gatto Paglio, sono due momenti bellissimi all'interno del Gatto Paglio, dove si parla del cibo. Uno è quando offre questo grande pranzo, arrivato a Donna Fugata, e offre questo pranzo, appunto, a tutte le persone di Donna Fugata, che sono lì, un po' titubanti, perché, siccome appunto il principe di Salina era di abitudini europee, che mi avevano che offrisse un portaggio. E allora c'era un leggero timore, una leggera paura. E poi invece arriva questo enorme timbago di maccheroni. Arriva questo enorme timbago di maccheroni, dai profumi, proprio che, diciamo, si muove in tutta la stanza, quando viene tagliato, quando viene tagliato appunto diventa una sorta di scena paradisistica. Quindi il piacere anche in questo caso appunto della condivisione, della festa, di creare dei momenti che sono momenti di piacere personale, ma appunto anche sociale. E questo mi pare che sia stato sottolineato da subito, dalla relazione del Presidente, dal discorso sulla religione, eccetera, da tutti, insomma. Ecco, quindi direi questi due momenti. Ciò che noi leggiamo all'interno delle opere letterali è ciò che noi possiamo fare come opera letterale. Pensate ad Artusi, ovvero naturalmente il nostro modello per quanto riguarda i libri di ricette, tenendo presente che Artusi in genere non scomponeva le mie ricette, ma se le facevano andare, e poi le ha rilavoravano. Il vero, Giuseppe Prezzolini, negli anni della prima metà del Novecento, diceva che i due libri più importanti per la nostra cultura e anche per la nostra lingua, cioè quelli che ci hanno trasmesso proprio una conoscenza diffusa, per esempio nell'italiano, erano Pinocchio di Collodi e la scienza in cucina di Artusi. E' proprio come modello. Pensate, Artusi, i primi libri, le prime due edizioni, se ne era pagate lui. E poi dopo è diventato del best-seller senza fine, che conosciamo, che naturalmente è presente, credo, nella maggior parte delle nostre case e in tutti i ristoranti. Ma vogliamo citare anche altri personaggi, altri grandi scrittori, che hanno dato un contributo fondamentale alla cultura del cibo. Alla maturazione, direi anche all'esplosione, c'è un'esplosione della cultura del cibo, dico sempre in due modalità, uno del cibo che si mangia e l'altro del cibo che non si mangia. Perché adesso oggi andiamo in una libreria, ma parliamo anche di televisioni televisivi, metà sono dedicati a ciò che si mangia e metà a ciò che non dovremmo mangiare. Come fare per trattenerci, eccetera. Penso a Mario Soldati. Mario Soldati, il suo fondamentale lavoro sui pini, sui pini e la sua inchiesta alla ricerca dei cibi genuini negli anni 50, che praticamente coincide con la nascita della televisione nazionale, ecco, questo è un momento fondamentale appunto della cultura, della letteratura, dell'idea anche di questo cibo del territorio che diventa proprio patrimonio, patrimonio comune. Ebrea, Venonelli, tutti i protagonisti, guardate, sono anche i protagonisti della letteratura, cioè hanno scritto delle cose bellissime, importanti. Gino Venonelli ha scritto delle cose molto, molto belle, anche lui per esempio autore di aforismi, e qui ringrazio proprio anche per la scelta del genere letterale, che è una mia grande passione. Ma insomma, questa cosa dell'afforismo, dell'espressione sintetica ed efficace, anche nel cibo, credo che sia un grandissimo merito. E chiudo con due cose. Uno è stato l'altro grande giornalista, Paolo Vonelli, di Fiorano Bebedese, che è stato anche uno dei protagonisti della Grande Guerra, che ha scritto di varie cose, ma ha scritto forse il libro che ha inaugurato un po' la narrazione del ristorante e della cucina in Italia, cioè Ghiottone Arrante, un libro degli anni 30, in cui è stato rivisto e ripubblicato, e dire che vi consiglio di oggi. Un grande giornalista, un grande comunicatore di cultura e di cultura del cibo in particolare. E l'altro ricordo che il caffè è la nostra maggiore rivista, la nostra maggiore rivista appunto dell'illuminismo, ma forse anche della nostra cultura, nasce appunto in un grande esercizio pubblico. dal punto di vista metaforico, ma credo anche dal punto di vista letteralista. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. 5 anni fa dedicata al cibo, questo è molto indicativo di quello che mi sto per dire. Quando ho iniziato a mettere in piedi questa struttura, mi sono resa conto che il cibo per noi era una roba sfruttata. L'italiano diceva tutto, che devi raccontare? Le ricette? Ma io la faccio meglio, io la faccio meglio. Ma cos'è raccontare la ricetta? La posso fare io, la posso fare tu, la posso fare lei? E no. Perché raccontare il cibo, abbiamo avuto esempi in uso e poi saremmo finito da lei, ve lo dirà ancora meglio di me, per raccontare la vita su tutti i suoi aspetti. Se io vi faccio fare un gioco, adesso voi chiudete gli occhi e vi penso a una ricetta che è la mia ricetta preferita, ce la vedete sicuro, ciascuno di voi. La seconda domanda è, che ricordo vi evoca quella ricetta? Che ricetta non sono, mi mando uno spaghetto al pomodoro? Con uno spaghetto al pomodoro ve lo sarete mangiato? Con una persona cara, con una persona più di adatte? In un momento difficile? Quando è fatto qualcuno? Cioè, il cibo è memoria, il cibo è noi, sono pezzi della nostra vita. Ok. Quando cinque anni fa abbiamo detto con me, allora il direttore del voto, vabbè, apriamo finalmente una redazione cinque al Corriere della Sera. Io ero un'inviata di politica. Voi dite perché? Non lo so, era nell'esistoica. Io da quando sono bambina sono appassionata di libri di cucina, sono una collezionatrice pazza, folle. E così, a un certo punto era nato mio figlio da poco, non ce la facevo più, non ce la facevo più andare in inviata, non ce la facevo più il consiglio, eccetera. E avevo una passione proprio. E di poco mi diceva, ma perché non ci pensi? Poi sono tornata a casa quella sera, ed era l'età, e io allora seguivo tutti i libri, mi ricordo. Cioè, appena state le primarie. E sono tornata a casa, ed ero disperata, perché era da un lato come vuoi farlo, no? A raccontare finalmente quello che mi piaceva. Dall'altro sembravamo diare quindici anni per fare una scuola giornaliera. Insomma, ci sono arrivata con fatica. Il mio marito mi prese la prima mano, mi portò davanti al comodino, e mi disse, va bene, adesso tu guarda i libri che hai sul tuo comodino. E io gli ho detto, sì, dimmi quanti libri di politica ci sono? E mi disse, nessuno. Quanti libri di cuscina hai? Tutti. Se beh, questa era l'occasione di fare quello che ti piace. E quindi mi sono lanciata in questa roba e ho scoperto subito che era considerata una roba folle, perché in Italia, almeno quando ho cominciato io cinque anni fa, scrivere cibo era una cosa cheap. Quindi io ho ricevuto un messaggio di coberti industriali o no, ci sono confrontati, Aldo Cazzolo, che mi scrisse e mi disse, tu sei pazza. Tu sei una pazza. Tu sei 15 anni per l'inviata di politica per una donna è una roba anche molto... Perché? Perché ti metti a scrivere in cibo? Che schifezza è? Perché tu hai raccontato questo? Ma che? Ma tu sei pazza. Ma ovviava come un pazza, quella terminata non me la dimenti. E così via. Questo lo sto raccontando per dirvi qual'era la situazione della comunicazione del cibo in Italia. Il principale quotidiano italiano. Quindi io mi sono messa a distardamentare in un suo computer da sola e ce l'ha iniziata a costruire questa roba e non ci credeva nessuno. Ok, adesso il nostro pazza sul settore più ripetizio del Corriere della Sera. Abbiamo una redazione, sono usciti da tre mesi con un mensile, si chiama Hook, a cui io voglio molto bene perché ho un po' il figlio di tutto questo. E vi dico che scrivere in cibo è molto complicato in Italia. Un po' perché tutti pensano di essere critici gastronomici, no? Come ristoratore, come diceva il ministro, albergatore, giornalino, chiunque può fare tutto. Poi anche perché, qui non mi ammazzate, non so ci sono blogger, insala eccetera eccetera, però anche perché i social network secondo me sono in parte, non in tutto, anche io li uso. E' un piccolo disastro. Insomma, un piccolo disastro. Per esempio, quando facciamo recensioni di ristoranti sul Corriere della Sera ho preso questa decisione, con le forse. Prima di che, c'era un collega, intanto, come funzionava la recensione di ristorante? Mi ammazzeravano per questo intervento. Funzionava che mi sono scelta per mangiare, non pagavi i basi mai, no? E le scrivevi. Come le scrivevi di questo ristorante? Binis. Binis. Ho facciato binis. Ok. Peccato che non si fa così una recensione di un ristorante. In New York Times ci va almeno tre volte in anonimato pagando. Io non mi posso permettere di mandare tre volte una persona in anonima pagando. Io non mi faccio. Per finiscono a fare perché ho grande rispetto al vostro lavoro. E stroncare un ristorante, magari mi fa andare sui social network e faccia un po' di click. Però quanto non lo c'è dentro un ristorante? Non ve lo dico. Vengo da una discussione la settimana scorsa su questo tema. Quindi sono molto calda su questa roba. In redazione. Cioè io credo che le cose siano fatte bene. Da parte nostra e da parte vostra. E quindi anche le recensioni in Italia devono essere fatte bene con serietà. Quindi aiutateci però. Non assicondate quello che viene. Diciamo io faccio una bella recensione sul... No. 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 Fate parlare della qualità. Quando voi fate parlare della qualità che è altissima. in Italia. Siate orgogliosi. Siete orgogliosi. E poi... Quindi questa è la situazione. In social network. In blog. Tutto questo mondo qui. L'altra cosa che vi volevo dire è questa. Noi dobbiamo fare di più per difendere l'italianità anche nella comunicazione. Mi ha molto colpito quello che diceva il professore sulla literatura. C'è un problema. Ci fermiamo poi a un certo punto. Cioè che se dobbiamo citare dei libri di narrazione gastronomica contemporanea. L'artusi per carità. E ce l'ho anch'io. Non ce ne sono. In Italia non ce ne sono. E quindi devo guardare all'estero. Io ogni volta che vado a Londra. Ormai perché a voi ci vado spesso. Mi viene un mal di scopo quando entra in una libreria. Perché voi entrare in una libreria di Londra. Andate davanti al settore dei libri di cucina. Il 90% sono scritti sulla cucina italiana. Peccato che sono scritti dagli inglesi. Ok? Non si sa perché. Noi non riusciamo a raccontare noi italiani all'estero quello che siamo. Quello che abbiamo. Probabilmente proprio perché c'è un gap. C'è un deficit nella comunicazione. E concludo. Secondo me. Comunicare il cibo. Significa principalmente. Narrare una storia. Che è la storia di tutti voi. La storia che è legata a un cibo. A un pranzo. A qualcosa. E funziona. Vi dico. Anche a livello di comunicazione. Vi racconto questo. Questo esempio. Che è un mnematico. Sono appena tornata dal Maine. Negli Stati Uniti. Perché sono andata a intervistare una cuoca. che è diventata un caso mondiale. Se vi dico ero in French. Non vi dice niente. Vero? Ok. Ne hanno scritto tutti i giornali americani. Ne ha scritto il New York Times. La CNN. La CNN ha intervistato. Perché? Questa signora. Dopo un matrimonio. È una persona molto violenta. Che era. Che era. E' ritornata nel suo paesino. Che si chiama Freedom. Sono 700 persone. Nel Maine. E ha detto. Io cosa faccio. Per ritrovare me stessa. Si è messa a cucinare. In un murino del Trecento. C'è un fiume. A Pidon. Non c'è nessuno. Ci sono gli scoiattoli. Lei inizia a cucinare. Ma inizia a usare. Un po' come Pietro raccontava. Cioè il cibo del territorio. Raccontando se stessa. Quella che era la storia della sua famiglia. Quindi il piatto di quando era bambina. La mamma. E la gente inizia ad arrivare. Da tutti i paesini. E poi sempre di più. 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 Non da telefono. Quindi si può prenotare solo con una cartolina postale. Giuro che è così. Giuro. Grazie. Molto carina. È molto bella. E diventa un caso mondiale. Lei è prenotata per i prossimi cinque anni. Full ebook. Io sono assicurata a un viaggio della miseria. Mi sono presa anche un virus. In due anni sono arrivata lì. Non arrivare al tavolo. L'ho guardato. Ma almeno. Che vengono intervistate. Almeno fammi sedere. Mi ha messo una serie. Perché è prenotata per sempre. Perché? Perché lei. E' una cosa impressionante. Mi fatevi mandare questa cartolina postale. Perché? Ve la dico questa storia. Che racconteremo su Cook a dicembre. Perché lei si attivano pure la storia. Cioè lei ha. Cos'è che funziona nella comunicazione del cibo? La narrazione. Raccontatevi. Raccontatevi quello che c'è dietro il vostro ristorante. Quello che c'è dietro il vostro cibo. Perché l'unica cosa che resta nelle persone è la migliore arma di marketing che avete. Siete voi stessi. Grazie. Applausi. Applausi. Grazie. 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 la forchetta leggerà, perché è la più importante della forchetta, quindi in fondo i francesi che avevano l'origine culturosa, avevano avuto la gentilezza, l'intelligenza di trasformare la loro passione in propaganda, il posto di conflitto propagandico in propaganda, perché Rabelè parla già la fine del 5% oppure con l'uomo che è arrivato alla forchetta, parla della sinistra, il bidon sostanziale, il bidon sostanziale è quello che bisogna andare a cercare del posto, e si dice la sua moda, il moda dichiarazione che cosa è il massimo, che è la divina bottiglia, dove la divina bottiglia è un altro momento della potenzazione del pensiero, e passa anche per la servironia, perché c'è una cosa molto carina, mi fanno molto di fame, che c'è solo un pezzo di pane secco, si avvicina a un signore che sta cucinando un arosto, in piazza, allusa l'arosto e mangia il suo pezzo di pane, quello che sarebbe un po' di fare anche noi e poi la cosa stia, nel mio padre, quello della rossa e dice la scusa, se c'è mangiato il tuo pane con il profumo della mia rossa, che è il bagale, ma diceva che è il bagale, ma nel ciò che è il bagale, prende la monetidra, la mutenale e la fascolare se la mette in tasca, e io mangiato il pane con il profumo della mia rossa, ti fa un po' di rumore nella mia moneta. Il massimo teorico della politica è 300, 800, 700, 700, 700, 600, quello di 700, che è qualcosa, nel nostro sovracconto molto divertente, su una serie di tre lati grazie che passano a tempo molto migliore, fa degli eventi alimentari che sono fredditosi, sono delle cose incredibili, e vanno a finire fino a domando di là lo fu, con una sorta di mercadezioni con totale risposta, quando si descrive i costruccivi e dove le stitiche sempre più importanti della soltanza, i piatti cucinati dalla salsa nera, con la salsa nera, il cibo nero, peraltro, il cibo rosso, sono culturali diversi, l'Italia che sono, in fondo, i più concreti di questa storia dell'alimentazione, lo parlo da sempre, e lo parlo nel momento di storici, a mio parere, ci sono le grandi propagande, l'Italia è venuto da un cibo di propagande garantito di due dati, la prima propagandola è la qualità della vita a Pompei, se vi capita di fare un giro, adesso è girare a Pompei, non è difficilissimo, perché mi parlo addosso, ma se vi capita di un giro a Pompei, o comunque ai musei napoletani, le interpretazioni della qualità dei pesci, che erano dei pianzoni anti-Greta, perché il greco era costantemente in mare a viaggiare, in Italia mangiava pecore secche, non pescava, la grande scoperta invece, l'artistica è nostra, tra l'altro vaso sicuro, che trova vicino a Palermo, con i venitori di Tocno, e i genitori di Tocno, quelli che esalgono subito, usano per questi metodi per parlare di cibo, cioè l'Italia non sono, da prima che fossero italiani, ancora da romani antichi, oppure ancora da popolazioni interromani, sono dei parlatori di cibo, però ci piace dalla vicina, ci raccontavano, ci fanno vedere, perché cos'è la cosa, in quel quadro fantastico, quando poi Napoletone è arrivato a Carola, a Venezia, lo ha subito robato da Porta Caparici, in quel grande quadro, che all'inizio sta nella sala militare, anche da un lato, c'è la Gioconda, che nessuno vede più, perché indietro vede quando sta rotto, negli otto centimetri, quindi uno la vede con un'ostrica, ovviamente è una roba verde, ma nessuno guarda qua, c'è niente sulle nozze di carne, che quando le norme di Cristo sta a fare straordinario, dove, al centro, non c'è niente Cristo, al centro, c'è una roba in casa, che fa il sommeglietto, che allunga il bicchiere in mano, e gli dice, ma eh, che beccolo che è argomino rosso, eh. Cioè, la prima pubblicità vera, mondiale, di alcune delle aziende, dei filosofi. Noi abbiamo questa cosa curiosa, poi lo rifacciamo nell'ambito, sia nell'ambito sì, che nell'ambito pop, no? Il manciatore dei fagioli, con il Bologna, ma anche su tutti quanti dei campi, cioè quando si dice, mettessi d'accordo con la contro riforma con il fatto che tanto c'è davanti a tutti, che parte una linea di produzione, di straordinari dipinti, che sono poi l'origine della replica di quegli dipinti, da parte degli allievi, e di una delle dipende, non lo facciamo anche noi. E loro non faranno in chiave contestanti, cioè non faranno come è bello essere riformati e in un qualche modo vestiti di nero, con quei francesi di rossi e di giallo, come è bello fare pulitano, però in qualche settimana individuano queste cose, queste montagne vicine, in genere. Anche da volte non loro, perché devo dimostrare anche la potenza militare e commerciale che c'è invece, come le olive e le ostre, che sono loro che cominciano a portare. Questo rapporto è un classico. E poi, devo dire, poi diventa invece, e lì c'è una cosa straordinaria che in internet, tutti stanno a vedere la giornata, sembra un peregrinazzo, a Natale, in uno dei nomi centrali della nostra cultura militare, con quelli dove l'incrocio delle culture è stato appunto Massimo, che è Napoli. Perché Napoli, io spesso ho indicato con mia moglie sul padre figlio, ma Gesù rispetto al primo dono lungo, il partigiano, e lei, come tutte le norme, che ha scoperto il religione, con passione, pensa che non si deve fare, e mi rispuffò l'antropologo, e so che si deve fare, perché la rivoluzione alimentare del XVIII secolo è dovuta principalmente in tutta Europa, tra l'altro, alle teorie fisiocratiche che si individuano sia in Austria che in Francia. Cioè quella in base nel quale la richiesta dell'elvenzione è più legata alla capacità di disorganizzazione, cioè all'uomo posseduto, ma alla capacità di produzione alimentare, perché la produzione alimentare per esempio di produrre tanti esseri umani, tanti esseri umani permettono di fare uccidere in guerra. Per avere carne e la cannona bisogna avere una buona agricoltura. La buona agricoltura si diventa sia in Francia che in Austria allora che nell'area italiana ovunque Maria Chiesa d'Austria che faceva un giocco quindi gli piazzava perché doveva fare un'Italia con la propria discendenza se ne erano nominati un bacato una Tiretse e un arapoli e ovunque c'era fili suoi si cominciano a pomodoro perché si insegna la nuova agricoltura l'agricoltura dell'agricoltura si cominciano a pomodoro si impara a usare l'industria per fare alimenti si mette alla prima macchina delle istituzioni dei spaghetti cioè è una ricoluzione alimentare formigabile e passerebbe ma poi propagandà a Casetta vale la pena con le norme prese che era presente nel 1764 di Terminato e di Carolina ovviamente dell'austriaca dove c'è il giusto c'è la pubblicità del nuovo alimento ci sono le lupari in un lato che sono state introdotte ci sono dei promolori treviti dei formaggi dell'origine del primo cozzarello che hanno fatto una roba maoista quale con pubblicità e in mezzo c'è l'onda mia che sta seduta la tabla che è leggermente spaventata con la pomodoro e l'oppa che la lancia con la forza cioè contro tutta quella iconografia un po' fuori che vogliamo che si manda solitare allora questo spiega un po' l'italianità cioè la capacità di mescolare arrivi da ovunque e guarda ciò che è realtà che la storia dell'industria italiana non ci sono alcuno non facevamo uguali tanti altri ad esempio grandi produttori di materie prime li portiamo qua e li trasformiamo e quando l'americano vede un caffè ristretto italiano gli chiede una grappa un grande amico dell'orchese che era il famoso dell'allocato dell'aere che era totalmente l'udio di di rocchese parlava sottovoce sempre in stretto e però mangiava preferibilmente italiano e iniziava la sua cena per passia con una grappa italiana con ghiaccio dentro called rocks era una roba che trovava abbastanza le ritagne però non poteva che condividere poi la concludeva con un caffè ristretto e grappa senza rocks noi abbiamo sforzato il culto prima che per esempio del mondo visione delle cose perché abbiamo legato la parte del destino del paese alla sua al proprio destino misto della dimostrazione dove la parte popolare dialogava costantemente con la parte più elegante il fatto che non siamo mai caduti nella trappola assolutamente il collo della grande cucina francese che io devo difendere perché non sono neanche il pilotore sono tre motore io sono potente difendere la chucrut e il foie gras e anche i magheroni mi tocca ma non avevo colpa diretta ma il rapporto di varie culture europee è ciò che ci determina e in quel campo noi siamo stati propagandesi fantastici avevamo della pittura pensate avevamo della musica a tal punto che il più italiano dei non italiani che vuol fare una discursa no? quando fa cantare l'inno al marzenino è straordinario e apre la strada perché quello da lì non è il marzenino si passerà poi all'inviare del verde noi siamo gli unici che portano con enfasi l'esercizio del vino il mangiare in scena piantare verso non ce l'hanno fatta neanche i francesi allora posso farvi tutto noi lo portiamo lì lo fa poi il cinema più avanti internazionalmente ma la la radice dell'esercizio è diventata una faccina italiana ed è questo il motivo per il quale anche se adesso andiamo a mangiare più tardi sono sicuro che mentre mangeremo continuare a portare vicino grazie 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 grazie